Oggi Nicola Zingaretti è andato direttamente dal Presidente della Camera Roberto Fico per insistere sulla convocazione in aula di Matteo Salvini. Ringraziamo il Presidente della Camera che non avendo ancora ottenuto alcuna risposta dal Governo ha irriterato questa mattina la richiesta che il Ministro dell'Interno riferisca in aula sul caso Russia. Dice Zingaretti ora sia la Camera sia il Senato chiedono al Governo di riferire sui fatti di Mosca. Ma l'affondo arriva da Graziano Del Rio che dice se il Ministro Salvini non ha nulla da nascondere non scappi così come già scappato dai processi. Quindi inizia bene la frase e finisce con un'aggressione così come già scappato dai processi. Qual è il processo? Quando ad Agrigento lo avevano accusato di sequestro di tutti i migranti che c'erano sulla nave della ONG. Quindi sequestro non mi ricordo di cos'era 60-100 persone. Una cosa assurda il sequestro dei migranti. Quindi secondo Del Rio Salvini è scappato al processo come sequestratore di persone. Il Ministro sequestratore. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.